Grazie Adesso c'è una ragazza, una bella ragazza Si chiama Mietta Madeo Io penso a te di Vana Spagna Vieni Mietta 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 e io poi quando il pezzo anche tu mi regalo il fiore no? no, no questo magari lo tagliamo no, il fiore avere portato gitarra elettrica allora io anni fa avevo fatto male alla gamba a pugliono grazie a questo danno ho scritto una canzone lunghissima ah, meno male ho scritto una canzone che si intitola mi hai fatto male mi sono fatto male ma male veramente è una cosa lunga no, 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 no due peccine tiena qua però veloce, veloce maestro Viscopo si arrabbia, su allora mi dovete aiutare però so che siete venuti a fare aiutateci, aiutate dovete dire zoom 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 mi sono fatto male ma male veramente allora io ho detto zoom 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 mi è piaciuto a me no a me no a voi vi è piaciuto eh sì sì diciamogli di sì allora aspetta la canzone zoom 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 mi è rimasta la canzone stavo leggendo la sua scaletta e non la mia allora adesso è il momento delle tastiere Giuseppe Nola studio opera 10 numero 3 di Chopin giuseppe Nola ah è direttamente dal pubblico facciamogli un applauso a Giuseppe vestito da da cosa sia vestito Giuseppe? grazie 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 bravo il nostro Giuseppe Nola allora maestro Lorenzo adesso è il momento di un altro artista di un altro artista del maestro Brunetti Lorenzo Perfetto Nobody Now di una musica di una tradizione americana a tutti i giovani allievi del maestro Brunetti facemogli un applauso al piccolo Lorenzo ci siamo? ci siamo? ok di un altro artista del maestro Brunetti ci siamo? sui Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Allora, adesso continuiamo con un'altra schitarrata. È il momento adesso di Flora Nola. Flora Nola, reclamata dal suo fan club, Wish You Were Hair, con Lorenzo Calabro. Allora, le chitarre hanno il solito, diciamo, un piccolo inchippo delle casse. Allora Lorenzo, questa volta ce l'abbiamo fatta? Ce la facciamo? Allora, lo spezzacolo vi sta piacendo? Sì? No? Sì? Vi piacciono i nostri cantanti? Adesso, fra poco, è il momento dei comici di nuovo. Chissà cosa avranno combinato per noi quei mascalzoni della Barahonda. Chissà cosa bolle in pentola. La chitarra è uno strumento un po' complicato. Facciamogli un applauso di incoraggiamento a questi ragazzi che vengono, suonano, anche l'emozione di stare sul palco a provare. Ci siamo? Prego. Buonasera. Buonasera. Grazie a tutti. 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 Grazie ai nostri due chitarristi. Grazie a tutti. Grazie a tutti. La serata abbiamo voluto creare questo clima di carnevale per tutti i bambini. Siamo pronti? Ok, vai? Ok, vai. Grazie a tutti. 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 Chissà che cos'è che hanno preparato? Comici? 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Allora vai? Grazie a tutti. 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 Prego? Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. a tutti.